I found a love, follow me, don't just start writing, follow my lead Ciao ragazzi, benvenuti, io sono il Maestro Libero, con questo video di oggi voglio lanciare ufficialmente la mia pagina tuttiarachitarra.it, è una scuola online esclusiva per i bambini e per i ragazzi solo lì troverete tutte le video lezioni dei brani che ho presentato finora sul mio canale e le partiture da stampare oggi vi presento Perfect, ma se venite su Tutti la Chitarra vedrete la lezione completa è una canzone un po' lunga e quindi per poterla seguire bene, per poterla suonare e studiare veramente bene è necessario avere la partitura completa allora, ve l'ho preparata, è gratis per tutti, non bisogna pagarla dovete semplicemente venire giù nelle note dell'episodio se poi venite su Tutti la Chitarra vedrete la lezione completa e in più tutte le altre lezioni che ho pubblicato fino ad oggi andiamo adesso con Perfect e in più tutte le lezioni che ho pubblicato fino ad oggi e in più tutte le lezioni che ho pubblicato fino ad oggi e in più tutte le lezioni che ho pubblicato fino ad oggi ho messo ultimo e in più tutte le lezioni che ho subito e allora è molto lunga ho cercato di arrangearla nella maniera più semplice possibile qualche volta l'ho anche semplificata rispetto alla versione originale, insomma cantare in cui c'è qualche abbellimento, qualche piccola nota in più. Io però ho cercato di sintetizzare e semplificarne in modo che sia suonabile per tutti. Avete la tablatura per la chitarra, avete anche il pentagramma, potete suonarla quindi anche, non so, col flauto, con la tastiera o qualsiasi altro strumentino. Se siete degli insegnanti e volete ruborle ai vostri ragazzi, venite a trovarci su tutta la chitarra dove trovate la partitura in pdf da poter stampare. Spero vi sia piaciuta, in un prossimo video vi mostrerò anche gli accordi, ok, come si accompagna questa canzone, in modo tale che potete anche suonarla con più chitarre. Aspetto su tutti alla chitarra, ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo tutorial. Aspetto su tutti alla chitarra, ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo tutorial.